Ah no, questo non lo posso più fare Perché? Oddio c'è un bottone A termine di vendare o a Battistini Che l'ha fermata la capolina da una parte O alla nannina La fermata è la stessa ma tu vai Una banchina va verso la nannina E quindi è un binario L'altra va a Battistini Che va dall'altra parte Sono due binari come la mia No, perché sono due binari Ma è come se tu avessi fatto Un'unica metro che parte da Battistini E poi arriva da nannina E poi ritorna indietro Quindi se io sono a termine e devo arrivare a Battistini Devo aspettare la metro che viene a termine Vada da nannina e poi torna indietro Se tu ne crei un'altra La fa contemporaneamente Dio e Dio Ti ha dato del porco C'ho sempre avuto lo stesso Per i pesi di Mv3 puoi darci già qualche notizia 880 giga Vai su cazzo di Google 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 Andate su Google Parca 2 No I soldi di queste tessere dove sono andati a finire? Abbiamo investiti In cosa? In puttane Che cazzo? Ma ti vuoi fare i cazzi tuoi? Che è meggiore che dite i miei colpi? Ma stavo chiedendo Ma stavo chiedendo Va bene Scusate 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 Ce l'hanno un burello da prestarmi Per favore Mi vuole veramente mandare via così sotto la pioggia Arrivederci Come ti senti in questo momento? Mezzo No mi sento Che scampo È crazy bro Chiedo scusa Che dovevo dire Io prima ho letto un 100k su Lollo Non deludermi E lei mi fa pescare 8 carte E un minuto dopo A te ciccio 12 Chiara vai Riffo in 380 tanti Chiara non l'ha detto 1 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 Io mi ricordo Matteo Hs che ci ha detto Che non siamo organizzati Voi mi sembrate vestite Tutti di colori diversi Quindi È vero È vero Io quelli pagliacci Non già parlo Bro 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 Yo yo Impossibile passare Da quella finestra Raga Contatto Contatto Spena sblocco le classi Raga Se no bisogna trovare Un attimo le armi giuste Per iniziare a ingranare Aaaaa Cane Che palle Poi mi dico di non tossica Vabbè raga Ma che cazzo è Quanto meno Galera Dai Geodude Please Geodude please Ah non me lo fa vedere Merda Kerosek No bro Affrontare le persone Solo a botte Che non vogliono parlare Ma fanno come i selvaggi Si picchiano Allora ho preso I pantaloni di tuta Me li sono tirati su Tipo fantozzi E allora ho fatto L'imitazione di questo Che è Sei brava a parole Ma con i pugni Come te la capo Con la base sotto Con la base sotto Di capped Per dei pugili Perché nel 1800 Non so se lo sapete Ma effettivamente I pugili Eh Nooo No vabbè Sto sulla luna Sto Benvenuta Che cazzo urli Appena indolo Bravo Signora che membro vuole Come che membro Standard Prego prego Vediamo 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 No 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 Così Così mi scivolo Sono toppo aspetta fammi mettere questo scusami stai fermo no no papà no papà no papà no 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 E' stato un luogo il punto ma appareggeremo i conti rimangono 24 nemici allucinante io non sono elettricista come si fa se ne ho capisco niente però stanno queste situazioni non ci credo no 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 non ci credo 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 è stato su tiktok diretta proprio e poi entra questo che gioco mamma mia piccoli 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 salvavanti non scappare Zola Dark Oak Or Sunspot Ironheart Che figlio di Che figlio di Questo si vede proprio che è un bocchinaro Come la mamma Senti il sound Vabbè Qua siamo in un'altra epoca però Vabbè che salta Sì vabbè Ma cos'è È partito È partito Ma poi salta a 6 metri Ma quanto è lungo sto sound Ma che cazzo è slow motion Cosa c'è il Zack Snyder Che ti sta riprendendo Ma più siamo Metà 1800 Non saluto con il cappello Sì sì Via la con le mani Minchia Porca miseria Minchia 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 raga Minchia raga Minchia raga Minchia raga mi sono spoilerata Minchia raga mi sono spoilerata Che cazzo dici No È la migliore È la più costosa del sezzo No È super fun to watch And I always love watching Some hyper-competitive Marvel Snap Best wishes to all the participants And viewers And for Atrix A special message just for you Vivente No Hi Thanks for watching everybody And thanks so much for supporting Marvel Snap stasera c'è la serati papi debì non mi sembra si possa entra